Salve, ecco inquadrata nell'immagine la scuola di Torreveia in Spagna, scuola secondaria di secondo grado che si compone di due anni, più due anni e la possibilità per i ragazzi di svolgere o un percorso scuola-lavoro o l'università. Io sono l'insegnante di storia dell'arte che ha avuto modo di condividere questa esperienza nella scuola spagnola con l'insegnante della scuola di storia dell'arte. In particolare l'organizzazione scolastica è diversa da quella che abbiamo noi in Italia perché la scuola che si compone di diverse aule, come si può vedere, praticamente offre l'opportunità ai ragazzi di ruotare al suono della campanella, i ragazzi hanno tre minuti per cambiare aula a seconda della lezione. Per quanto invece riguarda la materia, la materia storia dell'arte in particolare, ho condiviso l'esperienza con l'insegnante e ho potuto notare che dal punto di vista dei contenuti è analogo il metodo di insegnamento, mentre diciamo che loro sviluppano in maniera forse più estesa l'aspetto progettuale in quanto hanno possibilità di fare progetti finanziati dall'esterno, dagli enti pubblici, dal comune diciamo. Questi progetti godono di una visibilità pubblica, poi sostanzialmente vengono condivisi dall'intera comunità. In particolare questa esperienza è stata interessante per un confronto educativo anche se non è che cambia moltissimo rispetto a quello che siamo abituati a fare in Italia.